Siamo al termine dell'appuntamento di quest'oggi, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fino a questo punto, la musica continua sulle frequenze del circuito Margherita, Radio Margherita Siamo a vedere WM, vi lascio con il disco più richiesto della settimana, ritorna Take Me Higher, il meraviglioso disco di Diana Ross, noi ci risentiamo domani, ciao a tutti Wow, che musica, con Splash e il disco più richiesto della settimana